È trascorso un anno dalla morte di Simona Cavallaro, la ragazza morta dopo essere stata aggredita da un branco di cani a Satriano. Nasce a Soverato un giardino a parco giochi a lei dedicato che sarà aperto 24 ore su 24. La tragedia un anno fa, il 26 agosto del 2021, nella zona di Monte Fiorino a Satriano. L'inaugurazione nel giorno del primo anniversario della tragica morte della giovane nel quartiere San Nicola a Soverato, città dove la ragazza viveva con la sua famiglia. Per non dimenticare ricordiamo che nel pomeriggio del 26 agosto 2021 la ragazza si era recata assieme ad alcuni amici in un'area picnic per trascorrere qualche ora di svago quando si è verificata l'aggressione da parte di un branco di cani da pastore che non hanno dato scampo alla ragazza. L'iniziativa di reticare a Simona un'area attrezzata fortemente voluta dal padre di Simona, Alfio Cavallaro, è stata sostenuta dall'amministrazione comunale e dal sindaco della città, Daniele Vacca. Averle dedicato un giardino a parco aperto al pubblico è il miglior regalo che, a un anno dalla sua morte, si potesse tributare alla bella e sfortunata Simona. Sono le parole del presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, circa l'inaugurazione del giardino a parco. Ai genitori rinnovo la vicinanza mia e quella del Consiglio regionale, aggiunge Mancuso, per la tragedia che l'ha coinvolta il 26 agosto dello scorso anno e che ha profondamente scosso la Calabria e l'Italia. E apprezzamento anzitutto come uomo e padre per le toccanti parole con cui il papà Alfio Cavallaro ha omaggiato il soverato dello spazio verde dedicato alla figlia. Un giardino dove ogni fiore, ogni germoglio, ogni frutto si è dedicato a lei. Bisogna avere memoria di una ragazza strappata nel fiore della sua gioventù in maniera così traumatica, ma anche la responsabilità ciascuno per la propria parte di fare in modo che la morte di Simona ci sproni a fare di tutto affinché accadimenti del genere non si ripetano mai più.